cari spettatori del creepy cinema bentornati e benvenuti in questo nuovissimo video ragazzi miei oggi siamo qui tornati per un video un po del creepy cinema infatti oggi il creepy cinema ritorna su ogni su ogni schermo di youtube ragazzi oggi vi faccio una domanda avete mai sognato quest'uomo beh se sì oggi vi racconterò la storia di quest'uomo di questo di questo presunto uomo che tanto gira sui social di questa creepypasta che gira sui social ed ebbene sì vi racconterò la la sua storia ma prima di iniziare lasciate un bel mi piace se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e in descrizione trovate anche la playlist con tutte le creepypasta del mio creepy cinema che ormai c'è da tre anni ragazzi c'è ormai da tre anni e sono ovviamente fiero di fare questo di fare sempre video sul creepy cinema anche sugli altri sulle altre strutture della matte city quindi ragazzi niente iniziamo immediatamente con la storia di avete mai sognato quest'uomo spero che non avete mai sognato quest'uomo nel caso meglio per voi iniziamo subito nel gennaio del 2006 una delle pazienti di un famoso psichiatra noyorkese disegna questa faccia su un foglio di ricarda beh su quest'uomo dicendo che si tratta da quell'uomo che appare in molti dei tuoi sogni dando le suggerimenti e consigli beh come sapete la donna giurava di non averlo mai visto nella sua nella sua vita reale lo psichiatra incominciò il disegno ma ad un altro dei suoi pazienti ne rimase stupito e indicando il disegno disse io l'ho visto quest'uomo l'ho sognato compare nei miei sogni mi perseguità lo psichiatra era stupito completamente in inorridito due persone diverse che non si facevano e non avevano alcuna relazione fra loro sognavano lo stesso volto inviò allora la foto ai suoi colleghi ma poi in pochi mesi anche loro confermavano lo strano evento molti dei loro pazienti dicevano di averlo sognato almeno una volta tutti quanti e non erano collegati tra loro il numero di persone che dichiarò di averlo sognato salì addirittura a duemila da tutto il mondo los angeles berlino teheran pechino roma barcellona stoccolma parigi nuova terry mosca eccetera ed ecco alcuni dei sogni coi portati ve li ecco almeno ce li ho già qua uno uno scrive ho avuto questo sogno ricorrente per alcuni anni un uomo alto e scuro mi mostra una foto e mi chiede se in quella foto posso riconoscere mio padre l'uomo nella foto è un uomo mai visto prima non sembra per niente mio padre tuttavia inspiegabilmente rispondo di sì in quel uomo io lo riconosco a questo punto io mi sveglio con una sensazione di tranquillità altre volte il sogno continua sto davanti alla tomba di mio padre ho posto dei fiori per terra e mi rendo conto che la fotografia sulla lapide non è presente poi un'altra testimonianza mi sono innamorata di lui sin dalla prima sin dalla prima volta che lo vidi nel mio sogno anche se pensandoci effettivamente era un po' brutto tuttavia ogni volta che mi spiazza con i suoi gesti romantici e le sue parole dolci compra fiori per me gioielli mi porta fuori a cena o in spiaggia o a guardare il tramonto ho sempre avuto questo sogno scrive un altro di volare in cielo sopra la mia città osservando i miei amici da lassù dato che mi sono trasferito in un'altra casa ho iniziato ad incontrare quest'uomo durante il volo non ogni singola volta che sogno di volare ma abbastanza spesso vola anche lui ma non parla mai poi un altro scrive la prima volta che ho avuto in sogno quest'uomo stavo attraversando un periodo molto difficile al lavoro ho sognato di perdermi in un centro commerciale enorme e deserto improvvisamente l'uomo è comparso e io ho iniziato a correre via da lui lui mi ha rincorso per quella che è sembrata un'ora quando mi ritrovai contro un muro nella zona di bambini del supermercato a quel a questo punto però lui mi sorrise mi mostrò la via d'uscita verso le casse e mi sono svegliato da quella notte quest'uomo è apparso in tutti i miei sogni e mi dà sempre indicazioni per raggiungere l'uscita dal sogno e svegliarmi un altro scrive non ho mai avuto attrazioni omosessuali o anche solo fantasie però in sogno vedo spesso quest'uomo e devo ammettere che poi quando mi sveglio ho delle polluzioni notturne un'altra persona scrive ho visto quest'uomo nel mio sogno vestito da santa claus da papo natale quando entrò mi sentivo così felice proprio come quando ero bambina poi mi sorrise e la sua testa diventò un enorme pallone che galleggiava in aria sopra di me ma non importava quando io provassi e mi sforzassi di prenderlo non riuscivo mai a raggiungerlo un'altra persona scrive ho sognato ho sognato quest'uomo quando andavo alle medie l'ho visto nei sogni non nei sogni ricorrenti ma in un solo sogno memorabile e terrificante nel mio sogno sono rimasto bloccato in una stanza e mi sedevo su uno sgabello a pochi passi da me c'era un televisore sono stato a quel punto avvistato da due uomini che non avevo mai visto prima che non ero che non erano però quest'uomo e entrambi mi hanno attaccato mi sono svegliato coperto di lacrime e sudore ero in lacrime e stavo urlando in quel modo in qualche modo sono riuscito a riaddormentarmi e poi mi sono ritrovato di nuovo nella stanza ho iniziato a urlare a piangere terrorizzato che loro potessero tornare attaccarmi di nuovo e uccidermi e poi quest'uomo è stato mostrato nello scherbo pregai di non farmi nulla lui non ha cambiato la sua espressione e non mi ha parlato e non ha parlato usci dal televisore mi tagliò la mi tagliò la gola e mi sono svegliato suppongo che in un certo senso mi abbia tirato fuori dall'incubo ma non sono ma non sono riuscito a smettere di pensare a lui per settimane ho ancora delle bozze che ho disegnato di lui lo so che è un po' strano ho sognato un'altra persona scrive ho sognato questo uomo era nel mio specchio che mi guardava senza dire nulla e indossava degli occhiali non si è mai mosso per tutto il tempo che l'ho visto come una statua era così immobile un altro scrive l'ho sognato l'ho sognato questo uomo era brasiliano ed era molto bello era tipo un insegnante di scuola con sei dita sulla mano destra e ha detto che gli stati uniti avevano fatto un incredibile disastro nucleare ci ha dato solo un consiglio andare a nord queste erano delle testimonianze di chi aveva fatto questo sogno di chi aveva sognato questo uomo come è possibile che più di duemila persone sognino lo stesso volto per non avendo nulla in comune le teorie principali sono queste gli stati uniti avevano fatto un incredibile disastro nucleare ci ha dato un solo un aspetta scusate ho perso segno scusate quella memetica ci sono tre teorie quella memetica cioè quella giungiana e quella fantascientifica a queste tre ne è stata poi aggiunta una quarta quella paranormale secondo la prima teoria ovvero quella memetica questo volto non esiste nessuno l'ha mai sognato questo è solo un pezzo di carta con dell'impiosto sopra è solo un disegno vagamente somigliante ad un volto che è stato sognato dal primo paziente tutti gli altri pazienti non hanno sognato quest'uomo quell'uomo ma solo qualcuno in qualche modo simile questo volto può appartenere a chiunque è molto comune banale è un everyman cioè un uomo qualunque in cui tutti si possono riconoscere i volti sono difficili da ricordare nei sogni e tutti i pazienti vede tenendolo molto somigliante si sono fatti suggestionare il fenomeno però si è diffuso a causa di internet sempre più persone ne parlavano lo condividevano e lo stampavano e lo appendevano ai muri in città molto popolare come popolate come Parigi Londra Roma e Berlino chiedendo disperati avete sognato quest'uomo e per questo tutti conobbero il mito dell'uomo che compare nei sogni tutti si suggestionarono tutti credettero d'averlo sognato e il fenomeno divenne virale chiunque lo conosceva doveva condividerlo e in tutto il mondo si diffuse questo meme come sosteneva Richard Dawkins più il meme viene trasmesso e meglio si impianta servizi del TG volantini link su facebook video su youtube meme servizi blog che ne parlano ci sono migliaia di modi per venire infettati da quest'idea e le persone più si fanno suggestionare da questo meme più finiscono per aumentare le probabilità che questo si stampi sul loro subconscio e quindi venga sognato quindi come un virus di cervelli this man si diffusi in tutta la rete ossessionando molte persone fino a farsi sognare guardando un video su di lui di fatto aumenta la probabilità di stamparlo nel proprio subconscio poi c'è la seconda teoria ovvero quella giungiana giungana la seconda teoria è che quest'uomo rappresenta un archeotipo giungiano una cosa stampata nella coscienza collettiva che unisce tutti gli uomini che sono parte di una sola grande mente è scritto dell'antropologia scusate e che emerge durante i sogni è come la grande madre è l'idea dell'anziano saggio è qualcosa che è scritto sull'antropologia culturale è un'idea che tutti gli uomini hanno da cui non possiamo scappare è in sito dentro di noi quasi quanto l'istinto di conservazione ma non è chiaro che cosa significhi in alcuni sogni è una figura spaventosa che porta orrore e paura in altri porta consiglio in altri ancora si limita ad osservare in altri ancora però è portatore di superpoteri poi c'è anche la teoria fantascientifica cioè che un uomo realmente esistente è stato capace usando qualche tecnologia o a noi sconosciuta probabilmente posso nominare anche un'intelligenza artificiale di entrare nei sogni delle persone e di interagire con loro nel sogno con una tecnologia simile all'inception utilizzando droghe potenti realtà virtuale impulsi etromagnetici oppure l'ipnosi ma a queste cose a quale scopo cosa vuole dalla gente comune poi c'è anche quella l'ultima teoria ovvero quella paranormale che si tratti di uno spirito appartenente ad un mondo non materiale quello trascendentale che può comunicare quindi solo con le anime umane nel mondo nelle idee e dei sogni che si stanno diffondendo proprio appunto nel mondo dei sogni alcuni dicono che tutte queste teorie forse sono contemporaneamente autosuggestione tecnologie avanzate paranormale architipi più antichi delle piramidi nei nostri cervelli ma ragazzi qual è la verità venne addirittura lavorata una quella una quinta teoria secondo cui this man ovvero ovvero hai mai visto questo hai mai sognato quest'uomo è una nuova istanza della psiche esempio è quella che rappresenta i nostri desideri ciò che vorremmo fare ciò che nascondiamo spesso ciò che riprimiamo riprimiamo che è proibito immorale illegale disgustoso per la società il super lo è quello che che ci dice cosa è giusto e sbagliato cosa è inaccettabile e cosa è vergognoso quello che produce ansia paura vergogna e giudizio infine l'io è quello che decide giudica sente quello che siamo noi è la precettore trascendentale this man quindi sarebbe una quarta istanza rappresenta una sorta di suggeritore ti indica come uscire da un laverinto di inconscio il che significa non solo che ti suggerisce come fuggire dal sogno ma anche come risolvere i tuoi problemi reali si incarna sotto forma di padre di babbo natale di uomo romantico tutti i ruoli fondamentali per aiutare ma si incarna anche come assassino o inseguitore ti spinge a fuggire da qualcosa oppure ti fissa nel sonno tutto il tempo senza dire nulla secondo alcuni sarebbe dunque una specie di secondo io lui conosce tutti di te sa tutto delle tue paure dei tuoi pregi difetti della tua storia dei tuoi bisogni può usarli contro di te oppure può oppure può usarli per aiutarti oppure ti guarda ti studia ancora è un lo inconscio è un io inconscio proprio come l'io il suo scopo è conoscere per l'esattezza conoscere se stesso in grandi momenti di difficoltà può agire per dirti la soluzione che si trova dentro di te in grandi momenti di difficoltà può usare i tuoi problemi come armi oppure ti studia e continua a studiarti perché in fondo è quello che tu fai ogni giorno ma lui vive nei tuoi sogni lui è libero di usare quelle conoscenze mentre tu vivi nella realtà dove non puoi usare dove non puoi usarle perché hai paura o perché ti manca il coraggio oppure perché certe verità sono nascoste troppo in fondo non puoi farle uscire della moderna società sono preconcetti che annebbiano l'analisi quindi this man è il secondo io che ragiona e decide ma perché a volte è ostile perché attacca perché uccide perché a volte la persona che ci odia di tutti che gli altri siamo noi stessi chi meglio di noi conosce le nostre colpe chi meglio di noi conosce le nostre paure chi meglio di noi saprebbe come spaventarci ucciderci o farci o farci stare male this man è anche il giudizio il nostro odiare noi stessi e delle cose che abbiamo fatto this man a volte ci attacca perché noi inconsciamente attacchiamo noi stessi oppure perché noi ci sentiamo minacciati da qualcosa e lui rappresenta quel qualcosa armato però dalla nostra più completa conoscenza diventa il nostro sommo terrore è tutto e niente può anche essere un semplice personaggio del sogno non per forza nuova istanza psichica semplicemente una guida che ci conosce o magari che vuole solo consigliarci assumendo la forma di qualcuno che amiamo oppure una minaccia che incombe magari usando le nostre debolezze o semplicemente un incubo come gli altri la cosa però diventò inquietante quando ci fu l'epidemia degli incubi da che erano 2000 in nove anni divennero in pochi mesi più di 5000 e loro e il loro numero continuava a salire vertiginosamente ed esponenzialmente sempre più le persone lo sognavano e raccontavano la loro esperienza sempre più persone condividevano i loro sogni il fenomeno si diffuse di nuovo questa volta internet era letteralmente pieno di this man ovunque se ne parlava e tutti furono esposti al fenomeno tutto tutti lo sognarono almeno una volta e chi sognava stava diventando preoccupante il mondo anzi e chi lo sognava spesso finiva per sognarlo di nuovo ancora e ancora alcuni quelli che erano stati esposti per primi iniziarono a sognarlo ogni mese ogni settimana e ogni notte furono tentate tutte le vie con l'ipnosi si riuscì a parlare con this man mandando i sognatori a parlare con lui e fargli delle domande era poco loquace parlava molto poco e non forniva delle informazioni su se stesso ecco il dialogo più significativo la legge contro i sogni condivisi cioè che venne definitiva dai venne definita dai giornalisti come la legge contro i sogni condivisi ecco qua salve nessuna risposta salve puoi dirci come ti chiami hai un nome l'uomo risponde ho tanti nuovi ho tanti nomi voi mi chiamate this man il mio nome il mio primo nome è stato orfeo sei una persona reale gli domandano l'uomo non risponde come fai a viaggiare nel mondo dei sogni l'uomo non risponde se non sei frutto di un'autosuggestione puoi dirmi qualcosa che so solo io che ti ho sognato ieri ma non mi hai mai incontrato questo paziente prima l'uomo risponde ti ho incontrato mentre cadevi in una puzza piena di vermi sanguinati urlando disperato te ne sei andato poco prima di arrivare nel fondo e incontrare lui confermo quando dici te ne sei andato intendi dire che mi sono svegliato e quando dici ti ho incontrato intendi dire che ti ho sognato l'uomo non risponde hai parlato di un fondo cosa c'era in quel pozzo l'uomo risponde c'era una cosa simile ad un coccodrillo ma molto più pericolosa stavi per cadere nelle sue fauci ora ti sei fermato e sei immobile ahimè ma cosa dici io mi sono io sono sveglio ora non sono nel mondo dei sogni l'uomo risponde ora ti sei fermato e sei immobile gli domandano vuoi dire che tu ancora mi vedi anche quando sono sveglio l'uomo risponde sì sei ancora là te sto guardando ora oh interessante quindi mentre noi siamo svegli i nostri avatar unirici continuano a vivere nel tuo mondo potresti dirci che cosa vuoi nessuna risposta quando incontri qualcuno cosa fai di preciso l'uomo risponde parlo però molti dicono che li ha uccisi nel sogno non è vero l'uomo risponde io li ho liberati dalla prigione per te quel mondo è una prigione mi hanno dimenticato sono rimasto solo chi ti ha dimenticato una volta c'era più gente qui poi tutti se ne sono andati e ora sono solo come mai se ne sono andati avevano paura di cosa di quello quello cosa esci dalla pozzanghera dottor schindler che cosa stai dicendo che cosa vedi esci dalla pozzanghera dottore hai poco tempo non posso ora sono sveglio non mi posso addormentare che cosa vedi sta arrivando cosa quello quello cosa intendi l'alligatore strano l'alligatore è morto perché è morto chi l'ha ucciso quello che ti ha ferrato la mano il dialogo si è interrotto bruscamente quando il dottore è all'improvviso è caduto per terra urlando ossessivamente terrorizzato da qualcosa che lui poteva solo vedere i medici che sono arrivati poco dopo lo hanno visitato ma purtroppo è finito in coma irreversibile e non si è più svegliato qualche ora dopo il medico è morto purtroppo la cosa si è ripetuta molte volte con tempismi agghiaccianti domanda avete questa domanda la faccio anche a voi cari telespettatori del creepy cinema avete mai sognato quest'uomo spero di no ma stanotte non andate a letto tardi aumenta la possibilità di avere gli incubi questa era la storia di disman o meglio avete mai visto quest'uomo avete mai sognato quest'uomo fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa storia ringrazio entity dragon per avermi consigliato questa storia soprattutto lo nomino perché me l'avete mi avete mi hanno consigliato questa cosa grazie entity dragon e noi ci vediamo ad un prossimo video da voi sono matte è tutto ciao ragazzi